Salve a tutti, bentornati a lezione di Excel in pillole. L'argomento di oggi è 2.1.2 Individuare buoni esempi nella creazione di elenchi Evitare ricche colonne vuote nel corpo principale dell'elenco e assicurarsi che tutte le celle intorno all'elenco siano vuote Bene, apro Excel Per comprendere bene questo vedrò di fare un piccolo bilancio familiare lo facciamo settimanale per non perdere tanto tempo rappresentiamo soltanto queste voci che ho preparato alimenti, abbigliamento, spostamenti intensi, quelli con l'auto o con mezzi pubblici istruzione e divertimenti qui voglio mettere soltanto i sette giorni alla settimana ecco, magari lunedì, mattedì, mercoledì, giovedì indicando anche il giorno del mese per esempio, se io scrivessi 16 marzo ecco, 2020 ecco, praticamente anche il giorno della settimana perché? allora, se è 16 e lunedì ecco, cade bene perché vedo anche il giorno della settimana? perché precedentemente l'ho impostato sul formato shell e ho scelto questo se no di default si leggerebbe così la data c'è che dobbiamo fare però un bilancio, diciamo, settimanale meglio è che compaiono solo i giorni o giorno e data ecco, qualora se ne facessero poi altri quindi vado su formato scelgo formato shell e quindi questo formato che comprende anche la data e il giorno della settimana bene, ora questa la devo estendere sappiamo bene come si fa basta, scorre lo resto e basta facciamolo da lunedì a domenica e poi facciamo, faremo il grafico bene, questo mettiamo in grassetto leggermente più grande e qui mettiamo i valori ecco, alcuni saranno semplicemente zero cioè magari non è che tutti i giorni andiamo a fare la spesa zero quindi metterò un po' di valori che sono zero così la bella si riempie molto più velocemente ecco perfetto e poi mettiamo altri valori che sicuramente sono diversi da zero vi ricordo che quando c'è da magari domenica ci divertiamo di più che è di martedì ecco e per quanto riguarda l'abbigliamento non tutti i giorni si va a fare spese per l'abbigliamento magari con gli spostamenti ci si sposta quasi tutti i giorni quindi dobbiamo qualche zero l'istruzione può andare bene così pure bene allora, devo riempire il resto cosa faccio? intanto seleziono un'intera tabella la cosa migliore seleziono un'intera tabella che deve accogliere i dati imposto, valuta, euro ecco bene e poi man mano riempio gli alimenti vado a fare la spesa in martedì per esempio 34 euro invece mercoledì non ho spesi 56 giovedì non ho spesi 33 sabato 67 e domenica 45 ecco poi andiamo all'abbigliamento l'abbigliamento magari lunedì ho speso mettiamo 54 euro e qui invece giovedì ho spesi 98 bene e invece la domenica sì sono uscito pure domenica ho speso 77 euro spostamenti lo spostamenti mi era 34 euro qui facciamo anche un messo benzina ho fatto l'abbonamento dell'autobus non lo fa 54 qui pagano i 12 e qui metto 0 allora qui l'istruzione l'istruzione abbiamo comprato qualcosa in cattolerie libri eccetera mettiamo 79 euro quindi ancora magari 22 e qui 12 per i divertimenti allora mettiamo qui 23 euro qui 43 qui 54 qui 98 ci divertiamo ecco bene cosa voglio fare di questi dati inseriti nella tabella voglio fare per esempio la somma vedere quanto ho speso per gli alimenti e quindi qui scriverò somma una cosa importante già che poi di questa tabella voglio fare un grafico è importante lasciare una riga vuota cioè io non posso continuare scrivendo somma magari massimo medio attaccato alla tabella deve rimanere una riga vuota poi scopriremo perché allora qui scriveremo somma magari limitiamoci alla somma e alla media dei valori limitiamo anche al massimo quale è il massimo che abbiamo speso per ciascuna categoria massimo ecco scrivo max ecco anche queste stesso formato di queste copio il formato e lo incollo in questo momento bene allora facciamo la somma la somma sappiamo che si può fare in diversi modi ma adesso qui non stiamo a spiegare come si fa la somma io la faccio velocemente seleziono tutto così e gli dico semplicemente di fare la somma ecco qui basta un clic qui e la somma è fatta per la media è diverso per la media gli devo scrivere uguale media apro la tonda la media di tutti questi valori eccetto questo quindi già stata questa riga vuota mi aiuta a evitare di selezionare magari un valore non ci asecca niente non posso inserire nella media totale quindi mi fermo qui confermo e poi sapete che basta riempire lo faccio dopo aver calcolato il massimo uguale max apro la tonda seleziono tutti questi elementi confermo seleziono questi ultimi due media e massimo porto il puntatore sul quadratino di riempimento e scorro verso destra beh questa cosa ho fatto velocemente perché non sono diciamo punto dell'argomento di oggi l'argomento di oggi ho pure già dimenticato qual era era quello sì di individuare cioè dove inserire correttamente le righe dove magari non inserirle per esempio non avrebbe alcun senso inserire una riga o lasciare una riga vuota nel bel mezzo della tabella questa ecco questo non deve succedere non devono esistere righe vuote o colonne vuote nel bel mezzo della tabella invece deve esserci una riga vuota qui è magari una colonna vuota qui che faccio un po' più piccolina se volessi io calcolare magari non so la somma di quanto ho speso lunedì quindi lunedì quanto ho speso quindi scriverò magari qui semplicemente somma e accanto lo calcolo media e massimo semplicemente porto il puntatore qui così li sposterei tengo premuto control vedete più accanto al puntatore ecco lo ho copiato per evitare di scrivere tutto in quel modo copio il formato di questo lo incollo qui così è uguale e la somma la calcolo qui come? qui devo fare somma lui in automatico mi prende tutto compreso qui la cella vuota e questo è chiaro che così non è corretto o modifico qui anziché fermarmi a colonna H mi fermo a colonna F facciamola così la prima volta poi vediamo anche un altro modo per fare la stessa cosa calcolo la media qui uguale media posso copiare anche la funzione questa media vediamo che succede copia e la incollo qui si può incollare con il tasto invio ecco scusate la funzione non è questa ma è questa quindi copio vado qui e incollo che cosa accade mi da riferimento perché lui come riferimento non sa che cosa prendere allora che cosa faccio a posto di riferimento ecco lo cancello e seleziono i valori che mi interessano ecco qua quindi la stessa cosa posso fare per il massimo lo posso prendere da qui lo trascino qui su max tengo con il tasto contro lui mi da rif perché chiaramente non sa che fare ho messo qui però che cosa faccio doppio clic cancello riferimento del punto esclamativo seleziono ecco tutto il valore relativo alla media che è questo ora però diciamo che io voglio fare la somma poi la media e poi e devo incolonare diversamente quindi somma lo metto qui media lo metto qui e massimo lo metto qui se no poi ci sono problemi questa colonna la sposto semplicemente di qua queste che la media la tiro su un attimino e invece il massimo lo metto qui faccio in modo che questi tre abbiano lo stesso identico formato di quelli e lascio qui appositamente una colonna vuota poi vedremo perché è importante lasciare una colonna vuota così anche per il resto facciamo in modo che abbiano lo stesso formato controlliamo questa è la somma dicevo se non fosse corretta la selezione notate che ci sono su questa selezione i quadratini le maniglie queste maniglie portando il puntatore ecco il puntatore stesso si trasforma io posso accorciare o estendere la selezione in questo caso è corretta e quindi confermo verifichiamo anche per la media per la media ecco non è corretta perché lo fa di quello sotto lo porto sopra prendo questo lo porto sopra bene vediamo per il massimo confermo in massimo ecco lo ho fatto di terzo prendo questo lo trascino sopra bene e confermo se serviva estendere o accorciare la selezione lo posso fare così oltre che come abbiamo visto prima modificando i riferimenti relativi confermo per fare tutto il resto mi basta selezionare questi non posso fare doppio clic non funziona perché c'è una colonna vuota ecco devo trascinare in basso allora il trucco potrebbe essere magari se proprio mi inserì là dopo la colonna vuota potrei fare così doppio clic non è che cambia niente insomma ecco potrei fare così poi comunque mi devo ricordare di inserire una colonna vuota perché perché se io adesso voglio fare il grafico devo fare il grafico solo esclusivamente di questo che posso si selezionare lui capisce se seleziono che voglio il grafico di questo ma posso non selezionare sto ovunque qui dove mi pare e tranquillamente io vado a fare il grafico di questo si leggono meglio i dati se c'è la colonna vuota e si evita di fare pasticci ecco questo ha a che vedere con la somma media e massimo relativamente già della settimana questo ha a che vedere con somma media e massimo relativamente alle diverse categorie di spese ora vediamo di fare il grafico quindi è importante questo per ritornare all'albumento del punto del syllabus lasciare dove occorre colonne vuote si può stringere eventualmente non serve lasciare troppo grande ecco colonne vuote dove occorre e righe vuote dove occorre mai righe vuote o colonne vuote all'interno della tabella che contiene i dati magari relative ai quali noi vogliamo fare questo dato bilancio per un grafico facciamo il grafico andiamo su inserisci scegliamo grafico ecco qui scegliamo magari in questo caso sarebbe più comodo l'istrogramma scegliamo l'istrogramma ecco può essere 2D o 3D un istrogramma 3D ecco qui questo è un tipo di grafico lo mettiamo più grande più grande ecco andiamo su sposta grafico eccolo qui non metto in voto si potrebbe mettere il nome ecco qui allora vedete che le serie ecco qui alimenti abbigliamento spostamenti istruzione per default sono le colonne questo grafico ci dà un certo tipo di indicazioni per esempio ci dice che il giovedì abbiamo speso molto per l'abbigliamento invece sabato abbiamo speso molto per il divertimento quindi le serie che erano le colonne del nostro foglio ecco le colonne di default sono le serie dei valori che poi vengono rappresentate nel grafico ma io potrei anche volere invece come serie giorni non le le voci spese insomma ecco quindi se io volessi come serie qui i giorni della settimana per avere un tipo di indicazione diverso non sapere per esempio la domenica sono speso più per i divertimenti o speso più per un'altra voce ma avere un'informazione diversa che adesso vedremo subito questo grafico potrei anche duplicarlo così lo lasciamo tasto destro sposto copia creo una copia ecco magari alla fine faccio copia ecco uno lo lascio così com'è e l'altro lo modifico voglio invettire le serie cioè non voglio più le serie per colonne ma per riga come si fa si va si seleziona il grafico poi bisogna andare su progettazione e scegliere invetti righe e colonne guardate un po' il grafico che succede assume una veste diversa dove questa volta le serie non sono le colonne come viene di default ma sono le righe cioè i giorni della settimana i sette giorni della settimana cosa possiamo vedere così al confronto possiamo vedere che per esempio per divertimento abbiamo speso di più la domenica invece per quanto riguarda l'abbigliamento abbiamo speso di più il giovedì ecco questo grafico e questo entrambi corretti danno due informazioni diverse nell'uno sono raggruppate ecco quando abbiamo le serie le colonne sono raggruppate le voci per giorni e possiamo confrontare giorno per giorno dove abbiamo speso di più nell'altro grafico serie orizzontali serie le righe cioè i giorni della settimana ci ritroviamo i dati raggruppati per categoria cioè alimenti immobiliamento eccetera per esempio ancora qui ci rendiamo conto che per l'abbigliamento abbiamo speso molto il giovedì bene io direi di non aggiungere altro semplicemente ricordare che quando si predispone una tabella non ci devono essere assolutamente colonne e righe vuote all'interno della tabella e invece ci vogliono le colonne e le righe vuote per tutto quello che non ha a che vedere con la tabella in modo stretto insomma ecco sì somma media e massima vanno a vedere con la tabella ma non possiamo rappresentarle sul grafico ecco io se facessi un grafico voglio forzare le cose facessi un grafico per esempio ecco questa riga l'eligno oppure la lascio ma viene fuori un pasticcio eliminiamo la riga per non parlare la colonna diventa ancora più un pasticcio facciamo così voglio fare il grafico di questo ecco lo fai lo stesso il grafico però che senso ha mettere a confronto somma media e massima con le voci spese non c'è nessun senso viene fuori un grafico che è di difficile lettura insomma non ha senso ecco facciamolo grafico 3D ecco spostiamolo in un foglio a parte ecco qui bene è un pasticcio cioè la somma abbiamo la somma la media e massimo anzi questo tutto sommato può andare pure bene perché ci fa vedere che per quanto concerne la somma dei valori della settimana abbiamo speso di più il primo giorno per gli alimenti se questo lo invertiamo selezione grafico progettazione e inverti righe e colonne quest'altro tipo di grafico non c'ha granché cioè avere qui la somma a confronto con i dati non c'ha tanto da fare bene vi saluto che ho 3 secondi grazie forino a confronto con i dati aे pob troppo